La cronaca degli ultimi tempi si sussegue di reati commessi da minori o con minori che finiscono per essere vittime di reati stessi. E' arrivato anche un disegno di legge ridenominato D.L. Caivano, repressione sì, ma anche molto di più che riflessioni fare su un fenomeno che evidentemente è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente è un fenomeno sotto gli occhi di tutti, è abbastanza dilagante perché si sono avvicendati numerosi fatti che hanno destato attenzione, preoccupazione, allarme, ma anche chiaramente forse il bisogno di dover fare qualcosa. Repressione, la certezza della pena, piuttosto che punire il colpevole è un aspetto su cui il governo sta puntando. Sono problematiche sociali, personali, familiari, dove la società ha anche le sue responsabilità in qualche modo. E la spia di che cosa? Un impatto sempre più grande di quella che è la vicinanza di questi ragazzi minori ad aspetti che sono legati più alla vita adulta. Il contatto con i telefonini, l'impatto con immagini forti, violente, a sfondo sessuale, pornografiche, piuttosto che una fascia genitoriale che a volte tende un po' a delegare o ad ignorare quelli che sono i compiti strettamente genitoriali, i ruoli in qualche modo di controllo, di condivisione, anche di conoscenza di quello che è il mondo dei propri figli. Si passa o da un eccesso di controllo genitoriale su degli aspetti anche superficiali, diari, compiti a scuola, piuttosto che a invece magari completa delega dei propri figli davanti per esempio a uno smartphone, nella consapevolezza che probabilmente non stanno facendo nulla di male, in realtà è lì che invece bisognerebbe vigilare molto di più. Quanto se ci può essere un grado di responsabilità anche sulle spalle dei giovani stessi? Sicuramente anche i giovani, benché minori, hanno delle responsabilità. Sono probabilmente delle responsabilità che si sono sviluppate con una cattiva educazione ai sentimenti, all'empatia, piuttosto che ad un contatto con le emozioni stesse. Giovani cresciuti probabilmente anche con un desiderio di rivalza, di narcisismo in qualche modo, di vivere nel branco, piuttosto che tralasciare proprio gli aspetti di empatia verso l'altro, verso i propri simili. Le responsabilità sicuramente ci sono e in qualche modo devono essere affrontate, sicuramente partendo da un'ottima prevenzione dove l'educazione e i sentimenti è il primo step e chiaramente poi si dovrà arrivare a tutto un proseguo, un lavoro più condiviso con le istituzioni, con le famiglie, con le scuole.